Io sono un soldato, ubbidisco, odio quello che faccio, odio quello che devo fare. La nostra vita è un viaggio nell'inverno e nella notte cerchiamo la strada in un cielo in cui non c'è luce. Io mi chiedo, ma come fa il Signore a perdonare i nostri peccati? La disciplina è la mia unica salvezza. Io sono Tampo Aizan. Senti, ho ricevuto una chiamata giù. Devi portare un regalo a Pettigone, a un locale nella zona, e vi fa lì una proposta. Dobbiamo assolutamente lavorare con lui, e se non vuole lavorare con noi, dovremmo... non la capire, no? E tu sai che la guerra non è mai un buon business. Mi raccomando, devi accettare assolutamente questa proposta. Questa è un regalo. Abbiamo lasciato una valeggetta piena di sigari cavalieri, i suoi sigari preferiti. Tu lo prendi? Vedi alla porta. Dove sta la valeggetta? Beh, io non lo leggo. Nella istanza di... di Sanna. Sanna? Salvatore? No, coglione. Dovrei lavorare con lui per il poccia. Senti, io vado là, prendo i sigari, e questo lavoro lo faccio io da solo. Robè, sarà un casino con lui. Forchere del pagione! Ha detto che dovrebbe imparare il lavoro. C'è cosa che è sto ucciso. Certo. Robè, non mi fare lavorare questo voi. Ro... Roberto? Pronto, Roberto? Ne mando l'interezzo. Salvatore. L'ultima volta che l'ho visto, dieci anni fa pensava solo a scopare, drogarsi e a fare bordello. Beh, sarà cambiato. Chi è? Sono io. Io chi? Sorreda. Ma come adesso? Io non ne ho sorredi. Sono io, Antonio. Antonio, certo che mi ricordo di te. Come sta? E apri sta cazzo di porta! Ah, sì. Certo. Aspera. Ah. Ah. Non è cambiato. Chi è? Ma come chi è? Apri sta cazzo di porta o l'apro io? Andamoi! Ciao! Ma dove stai? Prato. Sono contento di vederti. Non è cambiato per niente. Sei pronti, eh? Sì, quasi. Dai, spiegala. Ah, sì, sì. Aspetta. Beh, fa' il culo. Ehi. Ehi. Chica. Oh! Zeglia! Zeglia! Beh. Beh, mi sa che è morta. Cosa? Oh, dammi una mano. Come dammi una mano, eh? Non è cadavere, ci penso io. Cazzo. Ma che grazie? Dammi una mano, cazzo! Aspetta, 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 aspetta. Eh, le scarpe. Oh! Che fai pensava adesso? Che fai pensava adesso? Che fai pensava? Che cazzo? Che fai pensava? Sei più professionista qua. Bonjour. Che fai pensava adesso? No, no. Oh, oh! Che cazzo fai, oh! Via. Oh, e la valigetta? Eh? Ah, non ci pensa questa, eh? Qua, sbrigati questa volta, sbrigati, muoviti! Eh, che devo fare? Su. Come un imbecile, così che posso fare? Che devo fare? La pasta! E tagliatelle, girandole i tortigli. Ah, sì, li vuoi macchere, mi mannaggia, se li vuoi, sì. Oh, 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 oh! Eccoci qua, la nostra valigetta per Petty John. Chi è che l'ha presa, eh? Chi è che si è ricordato? Chi è che è stato intelligente, eh? Salvatore, Salvatore Sanna. Cosa si dice a Salvatore Sanna adesso, eh? Grandissima testa di cazzo, ecco quello che si dice a Salvatore Sanna. Vaffanculo! Ma senti un po' la cosa, è sta macchina di merda qua, no? Dove cazzo l'hai trovata? Che dobbiamo per forza prendere il macchinone e farci vedere da tutti? Discrezione e disciplina! Mamma mia, mamma mia, quanta serietà! Va avanti, cazzo! Oh! Che fai? Oh, accelera un pochettino, cazzo, che non c'è nessuno davanti! Sì, cazzo, fai! Si ferma, si ferma. Eh sì, si ferma, cazzo, fai! Complimenti! Sì, cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Ah, sì! Eh beh, papiè di veicule e permisi di circolazione, s'il vupi! Bien sûr! Salvatore, scusami, potrei stivare i documenti che stanno qua per favore? Cazzo! Cazzo! Questo ci! Molto ci! E ecco! Grazie! Ci sono cosa faccio? Ci sono cosa faccio? C'è? 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 C'è la tante di una testa per fare un... ...domenagement? Eh... C'è cosa c'è? 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 Non c'è un cadavre in il coffre? Un cadavre? Un cadavre in il coffre! Le cadavre! Tiens, parlons de déménagement. La semaine dernière, je déménage mon beau frère. L'autre il a trois télés écrangées. Vous savez ce que je lui dis? Eh, t'as que deux yeux. Pourquoi t'as trois télés? Il a pas compris. Deux yeux, trois télés! Ça c'est très très rigolo alors. Trois télés. Excusez, c'est-à-dire qu'on est vraiment très en retard. C'est possible? Ah oui, bien sûr, pas de souci. Vous avez besoin d'aide? Non, 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 non. Parce que non, 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 ça va. Vraiment parce que c'est... On est à deux, c'est parfait. Pas de souci. Allez, circulez. C'est bien, c'est quoi ? Oui, c'est quoi ? C'est bien. Eh, c'est quoi ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon. C'est bon ! Esprit quand tu parle de discrissonne. Non, c'est plus discréter de cette também. À ça. C'est bon. Cretine. Pero s'enchant. S'enchant ! ciao ma guarda che sono simpatici sono un genio ecco cosa sono un genio sigari oh questo cos'è? sai che facciamo adesso? andiamo da tutti i giorni portiamo questo e diciamo curati la barba sono cose che non possono succedere imbecille ma cosa non possono succedere mamma mia cazzo sei proprio un nonno di merda sai che cazzo dove cazzo stai andando? a prendere i sigari va a fa' il culo dai andiamo a prendere i sigari allora fai lato bravi sono confuso ok adesso facciamo una cosa io vado a parlare con Pettiro tu resti qua e conti i bicchieri mi prendi per il culo? no io resto qui e conti i bicchieri eh? come un cazzo di coglione come uno stupido 1, 2, 3, 4, 5 non prendermi per uno stupido coglione io vengo con te tu non risolvi i problemi tu crei i problemi io non creo nessun problema io vengo qua e ti aiuto sono qui per aiutarti sì ti ho salvato la vita già prima con i poliziotti ti ho salvato già la vita prima mi hai salvato la vita addirittura neanche un grazie ho risultato nemmeno un grazie ti devo pure ringraziare sì tu lo conosci almeno Pettiro lo sai chi cazzo è qui dentro lo sai chi è? ah non lo sai non lo sai non lo sai lo trovo da su l'air eh! oh c'è ce fils de pute Pettiro è tutto proprio eh 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 tu cherches a parler avec Pettiro c'è moi ce ne suis venu vous proposer un arrangement conta i bicchieri conta i bicchieri questa è la risposta conta i bicchieri noi on cherche a développer notre business in France tutto questo per venire qui e contare i bicchieri io vi propone juste un droit di passage on paye una taxe e non demanda rien tu mi stai mettendo la prova je sais que vous êtes un grand amateur di cigare permettez-moi de vous offrire de la part de notre organizzazione adesso io mi alzo ti faccio vedere chi sono e gli spacco la testa a Pettisone davanti a te perché non hai ancora capito chi sono io nessuno ha capito chi sono io sono Salvatore Sanna piacere Salvatore Sanna piacere piacere salvatore Sanna salvatore Sanna salvatore Sanna salvatore salvatore E' vero... ma tu non ti puoi incazzare così ma si ma che Italia la spaghetti la carbonara l'huile d'olive allora questo cadavro ma non il parto di domenaglio oh il ha avuto la trouille il l'a mai avuto si car c'è un mercato la sedia on oublie la chaise de la tante si la chaise blanche elle ha delle dolore lombare c'è un po' fatiguo c'è un po' fatiguo ça doit être fatiguant les déménagements oui c'est fatigant il déconne il est con celui là bon allez elle change d'avance et en attendant celle là c'est la mienne ciao 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 c'est l'italien ciao ciao Ah! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!